A 15 anni mi hanno diagnosticato l'odosclerosi, che è una malattia progressiva delle ossa interne dell'orecchio, che conduce alla sordità. Sicuramente avevo difficoltà quando stavo con gli amici, no? Perché non capivo bene i discorsi. Che cosa facevo? Mi mettevo a disegnare. Quindi è stato un modo assoluto per anche interagire. Ho fatto l'intervento, sono successe tante cose con le orecchie, ho fatto gli apparecchi acustici adesso, ma se io avessi detto, oh mio Dio sono sorda, oh madonna perché a me, oh Dio non mi posso relazionare, mi pigliano come stupida, ma chi è che si avvia un sacco? Cioè io, tu sei il mio. Io sono albergata in te, quindi tu un pochino, eh, devi fare come dico io.